Amici di Giovanni Paolo TV, buonasera, buon anno. Innanzitutto grazie perché mi ospitate in queste parole alla domenica sera e anche nel mio messaggio quotidiano. Siamo alla fine di un anno e c'è bisogno di tirare delle righe, come c'è bisogno anche di guardare avanti. Direi di guardare avanti con uno spirito bello, iniziare l'anno in levare. Io lo farò con chi vorrà in un modo anche abbastanza particolare. Perché questa sera alle 22 io celebrerò la Santa Messa all'Annunziata. Per invocare la benedizione di Dio su questo anno ed anche per iniziare l'anno di Padre Lino. Perché amici, cento anni fa Padre Lino moriva davanti alla portineria, dentro la portineria del panificio Barilla, generosissimo nei suoi confronti, dove ancora questo frate andava per chiedere lavoro per una persona che ne aveva bisogno. Un anno allora che abbiamo davanti, nel quale speriamo una speranza nuova e tante cose belle che il Signore ci metterà davanti. Non abbiamo neanche paura, come diceva, a tirare una riga e anche a chiedere perdono delle cose che in questo anno non sono andate. Facciamolo anche come città, come chiesa, come famiglia, come persone. È vero che c'è tanto bene come è vero che a volte il male fa più notizia. Ma c'è anche un pezzo di male che facciamo noi, un pezzo di bene che non vogliamo fare. È tanto bene che compiamo. È così guardare le opportunità di bene per l'anno prossimo. Non sappiamo quali saranno fino in fondo, ma sappiamo che ogni giorno saremo sfidati sul fare il bene o il male. Saremo sfidati sull'essere coesione o egoismo. Saremo sfidati sull'essere, e questo tiene tutto, persone che vivono la fede oppure persone che hanno una verniciatura esterna o che voltano addirittura le spalle. Carissimi amici, a tutti voi di cuore dico buon anno.